Sempre più spesso per via delle ristrettezze economiche lamentate dai comuni che purtroppo hanno fondi limitati da dedicare alla pulizia di strade e piazze e anche monumenti storici sono i cittadini, con i costituiti comitati di quartiere a dover far fronte alla normale esigenza di avere ordine e pulizia anche in pieno centro città. E' questo lo scopo con il quale il comitato di quartiere Santa Clementina per tre giorni si è messo in azione, con una decina di volontari per rivalorizzare l'omonima zona di Benevento, ma ridosso peraltro dello storico ed inestimabile Ponte Romano Lepruso. E' il nostro quartiere ma non è solo il nostro, tanti amici, conoscenti che lo utilizzano e a noi fa piacere tutto questo evidentemente riconoscendogli quello che è un merito di pulizia, un merito all'abitabilità, vivibilità di un quartiere. A noi fa solo piacere, è molto sentita per la verità questa partecipazione, riusciamo a coinvolgere un numero non indifferente insomma di partecipanti, è sentita e vissuta la contrada e questo per la verità un po' il merito di tutto, ma va riconosciuto anche all'iniziativa di Claudio, il nostro presidente che si impegna tantissimo e non da ora, sono ormai più di cinque anni che questo comitato è stato costituito e funziona. Tanta volontà di prestare qualche ora per il quartiere storico di Benevento, ma non senza una stoccata al comune. Vorremmo una maggior presenza dell'amministrazione per la verità che è assolutamente latitante nella zona e questo non da ora.